Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 27 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo vergine. Cari saluti a Mercurio. Cari saluti, così si usava scrivere sulle cartoline, ormai oggetto da collezione e cari saluti li inviate anche voi al vostro astro guida Mercurio, che oggi lascia il vostro segno per raggiungere il sole in bilancia, rimpolpando le vostre finanze e così finalmente potete concedervi qualche extra, un regalo per l'amato bene o qualcosa di bello anche per voi. Fino a metà mattina lo avrete comunque nel segno, impegnato a dialogare, oltre che con la luna con Plutone, Urano, la luna e abisticciare per l'ultima volta con Nettuno. Ragione controintuito, insomma, ma anche stavolta sarà la logica, soprattutto quella finanziare ad avere la meglio sui sentimenti e le emozioni, dolci e coinvolgenti sì. Ma non pagano. Qualche dubbio riguardo l'atteggiamento del partner e al comportamento dei vostri figli, a momenti chiusi, solitari, a momenti ribelli. Probabilmente anche voi alla loro età siete stati così, ma è passato tanto tempo e non lo ricordate più. In amore sembra rallentarsi tutto, in realtà ci sono errori di fondo che andrebbero rimediati e valutazioni errate che andrebbero corrette. Al consultante occorre molta pazienza per districarsi nei problemi della coppia e del proprio partner che ha spesso trascurato. I single avranno solo piccole avventure ma niente di rilievo. Non è assolutamente il momento per chiedere qualche prestito o dei mutui. Regolatevi di conseguenza e attendete tempi migliori. Prendete un'adeguata pausa di riflessione, soprattutto in amore dove apparite insoddisfatti e distratti. Se avete una storia clandestina forse è giunto il momento di rivedere la cosa e adottare soluzioni drastiche. C'è lo ancora nervoso e cupo per l'amore oggi, la serata non stradiversa. I singli in particolare dovranno fare un vero e proprio esercizio di pazienza e guardare al futuro. Oggi vi attende una giornata stressante da molti punti di vista, soprattutto cercate di mantenere la calma in tutte le occasioni e non disperate mai in un aiuto superiore. Non esitate ad allontanarvi oggi da una persona che si protesta vostra amica ma che ha nell'animo il progetto di prendere il vostro posto al lavoro o nel cuore della persona a voi cara. Fate tutto in modo che non sospetti che la state allontanando. Oggi siete aperti ad ogni avventura purché non abbe il sapore di vecchie cose, non è detto che non potreste fare cose interessanti e vivere emozioni nuove. Ma ad alcuni potrebbe lasciare il segno. Se oggi vi accorgerete che una discussione con il vostro partner si sta facendo complicata, sarà meglio che prendiate una pausa e facciate un lungo respiro. In serata vi sentirete agitati. Oggi i nati di lunedì potrebbero avere le occasioni giuste per riappacificarsi con qualcuno a cui tengono molto. Se siete in coppia il vostro partner potrebbe decidere di stare un po' da solo, non pensate subito a che si sia stancato di voi, ma che semplice mnete ognuno ha bisogno dei suoi spazi. Molto buoni i rapporti con fratelli, sorelle, cugini, zii o vicini di casa. Novità. Sarai ambizioso, desideroso di eccellere. Una lettera, telefonata o notizie da una che non senti da molto tempo. Una bella posizione di Marte in cancro vi dona la possibilità di godere appieno di alcuni piaceri in questi ultimi giorni di settembre e specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Fate attenzione all'alimentazione e all'uso non controllato di alcol e, per chi ancora fuma, del tabacco. Una forma fisica eccellente e il buon umore alle stelle oggi vi spingono forse ad abusare negli eccessi idonistici, in specie al modo quelli gastronomici, tipici del vostro segno. Vi spiacerà stamani salutare il vostro astro guida Mercurio che vi saluta per passare nel segno successivo, la bilancia, dove andrà ad occuparsi principalmente dei vostri conti. In ogni caso a consolarvi avete tante stellone positive, Plutone e Urano e Trigono, la luna cancerina in se stile. Solo il caotico Nettuno vi dà contro, ma sono ormai così tanti anni che ci avete fatto il callo. Quanto alle relazioni interpersonali ecco la massima a cui siete giusti attraverso l'annosa esperienza, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Amore ed Eros. Rapporto sereno e costruttivo con i figli, i parenti, gli amici. Vicini o lontani nello spazio non importa, con la tecnologia attuale il piacere di mantenersi in contatto vi parlate guardandovi negli occhi anche a distanze intercontinentali. Un modo come un altro per sentirsi vicinissimi anche nel cuore. Qualche dubbio, ma forse dipende solo dal vostro carattere sospettoso, nei confronti del partner che un paio di volte avete sorpreso a guardarsi attorno. Magari solo per farsi bello e avere conferma del proprio fascino, ma la vostra mente matematica e draconiana ha registrato tutto e non dimentica. Ecco perché in società al suo fianco siete sempre sul chi va là. E finché siete insieme passi. Chissà cosa non combina quando è solo. Lavoro e denaro. Precisi e puntuali lavorate senza distrarvi per tutta la giornata, amalgamando, come farebbe uno chef ai fornelli, logica, intuito e creatività conditi con la spezia della genialità. In viaggio per lavoro trovate anche un po' di tempo per godervi le bellezze della città o divertirvi con i colleghi. Senza dimenticate di acquistare un regalino per i vostri figli, il suo sentore esotico li renderà felici. Buone prospettive per i guadagni, in crescita moderata, una piccola vincita potrà darvi una mano. A casa il tempo libero non lo sciupate sonnecchiando, un film, un gioco da tavolo con gli amici o con i vostri ragazzi per mantenere sempre attive le sinapsi e specializzarsi in strategia. Benessere. Autunno, virus e batteri tornano a circolare mandandovi subito in paranoia. L'ipocondria è l'unico malanno di cui soffrite seriamente, quanto al resto potete sentirvi fortunati e oggi in particolare state benone, forti, sereni, equilibrati nello stile di vita, nel piatto, nelle ore di sonno. Consci dell'importanza dell'alimentazione valutati concura tutti gli ingredienti delle vostre ricette, con pochi grassi e pochissimo sale. Per lei, ve la ricordate l'usi dei Peanuts. Ecco, voi siete la sua controfigura, la psicologa a sostenere amiche disperate, che la trattengono al telefono per ore. È giunta l'ora di darci un taglio, state perdendo tempo prezioso, sottraendolo ai vostri impegni e ai vostri affetti. Per lui, finisce l'austerity, almeno per voi, se non vi siete fatti ancora il regalo di compleanno qualche giorno di ritardo è ancora ammissibile, tra i vostri dieci desideri scegliete il più costoso, vi meritate un super bonus. Colore delle emozioni, carta da zucchero. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.